Ciao Ilenia, ciao Luca, matti del forno, finalmente con grinta e determinazione agguantano la linea. Ah, e questa è la squadra, se abbiamo ben capito, dei matti del forno. Matti del forno, sì, sempre più matti, specialmente dopo le ultime festività. Va bene. Allora? Come detto, la nostra è la G di Garota. La G? La G? G di Garota, sì. Da due punti? Da due, da due. Allora? Attenzione perché non è difficile. Come vengono definiti i giocatori del Liverpool e quelli del Chelsea? Allora, quelli del Liverpool... Giusto? Come? No, non l'abbiamo sentito. Quelli del Liverpool... I Reds, sì. I Reds. I Reds. Perché sono rossi. Sì. Del Chelsea... Allora, come vengono definiti i giocatori del Liverpool e quelli del Chelsea? Blues? No. I Blues, quindi i Reds e i Blues, era piuttosto facile, due punti... È piuttosto facile per chi la sapeva. Due punti... Come quando ti interrogo a noi i professori. Ai, intanti del... Com'è andato l'ultimo dell'anno? Gente, vabbè, tanto... No, avevo una poesia, ma probabilmente la rimanderò alle prossime puntate. Allora, adesso ti mandiamo in vostro onore il filmato che ci avete fatto recapitare. Grazie tanto, eh. Ciao. Ciao, auguri. Anche a te. Buonasera. In Almeida che vedete parte della spada dei parti del filmato. Anno. Mento. Il sottoscritto che è il titolare di un amore. No. Bonetto. Buono. Volevo... Sottoscritto che la sapeggio di un amore di buon anno e poi ci vuole più la domanda di casa. Ci sono le stipendie di Europa per questa poesia che mi va a dire Aleccia. Il filmato infinito. Sempre calore di tutti i Deodoro. E' questo gioco che da tanta parte del titolo del giorno degli guardi simili. Ma chi dentro di una strada sono umani silenzi, anche infiniti che simili, anche simili domande, e l'intenzione di simili. Ove per voi il porto non si spaventa. E come l'ultimo Luca, avendo scimpiazzato la risposta, io non mi metto sorpreso di lei, ma quello dell'aiuto di lui. Ho comparato e mi sorvendo sorvetti la coppa dei campioni. E la presente di Macarena, il tuo porto a lei. Così, a questa pubblicità, si trova che le volano di lui. E ti bevi a te, di voi, su questo canale. Arrivederci, buon anno. Buon anno! Forza a parte del porto, forza a lei. Mi sentendo. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Basta, basta. Beh, torniamo dopo questo simpatico intramente, anche se non si è sentito molto. Infatti, questa è una raccomandazione che dobbiamo fare ai nostri amici che ci fanno recapitare questi filmati, di stare ben attenti all'audio. Infatti c'era un rumore di sottofondo che forse non ha permesso. Di sottofondo del forno che non ha permesso. Comunque, un caro saluto a tutti gli amici del forno e sentiamo la prossima telefona. Pronto?